Salve a tutti iscritti e non del TGG Network qui che vi parla The Adried e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò appunto come avrete già visto dal titolo di Black Ops 2 e di alcune informazioni che sono trapelate attraverso interviste e vari social network prima di ciò mi presento, sono appunto The Adried o Adriano e sono un amministratore del TGG Network quindi al canale qui su Youtube del The Gamers Group del gruppo ufficiale su Facebook ho pubblicato soltanto un video su questo canale, uno dei primi, forse il secondo per vari motivi, siano di scuola e di altre cagate varie, non ho potuto pubblicare molti video su questo canale comunque ora che la scuola è finita e sti cazzi buttiamoci e cominciamo a lavorare un po' allora ragazzi, come background diciamo sullo sfondo vedrete un gameplay su Modern Warfare 3 anche se parleremo di Black Ops 2 e un gameplay di Black Ops 1 sarebbe stato più adeguato però per vari motivi diciamo tecnici non ho potuto appunto farlo allora ragazzi cominciamo subito per prima cosa attraverso Twitter sono riuscito a prendere varie informazioni per quanto riguarda appunto Black Ops 2 principalmente informazioni che riguardano i PC Gamer PC Gamer scusate come me allora come vedete già diciamo sullo sfondo abbiamo questo tweet di PC Dev che è uno sviluppatore della Treyarch che si occupa della versione PC dei giochi appunto e come vedete tutti i PC Gamer saranno felicissimi di leggere questo tweet ovvero PC Dev scrive confirmed ranked dedicated servers for Black Ops 2 ovvero non ci vuole molto server dedicati ranked ragazzi per cui non sarà come su Modern Warfare 3 per PC dove si ci sono i server dedicati ma non sono ranked ovvero è come se giocaste in partita privata in poche parole non livellate invece su Black Ops 2 i server dedicati ci saranno e saranno anche ranked quindi un'ottima notizia per tutti i PC Gamer personalmente quando l'ho letta sono rimasto abbastanza felice ma qualcosa che probabilmente mi ha fatto ancora più piacere è sicuramente questa altro tweet confirmed lean and adjustable FOV multiplayer Black Ops 2 allora ragazzi questo è veramente qualcosa di meraviglioso ovvero FOV personalizzabile nel multiplayer di Black Ops 2 ragazzi soltanto su code 4 c'era quest'opzione per Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3 se volete cambiare il FOV sul multiplayer ci sarà bisogno di comunque questo piccolo programmino va abbastanza noioso peraltro adesso non si trovano più questi programmini quindi o lo si prendeva all'inizio o niente sinceramente io a giocare con un FOV di 65 non ci riesco proprio mi viene particolarmente male quindi questo tweet e quindi questa notizia mi ha reso veramente molto felice e questo per quanto riguarda il PC che attraverso un'intervista sempre a degli sviluppatori della Treyarch si è capito che stanno prendendo il lato PC molto più seriamente degli altri code comunque di Black Ops 1 adesso passiamo al lato generale e soprattutto per le console dopo un'intervista a Mark Lamia un altro sviluppatore della Treyarch sono traperate altre informazioni riguardanti invece il matchmaking del futuro code appunto che uscirà a novembre allora traduco molto velocemente questo spezzone di interviste in cui si dice che moltissimi giocatori storici in un certo senso di code i quali sono molto bravi a prestigiare vogliono diciamo più competizione attraverso il matchmaking appunto cosa vuol dire? suona molto come un matchmaking basato sulla skill dei giocatori ovvero sulla loro abilità nel gioco dopo qualche mia ricerca aggiuntiva in un certo senso un pizzico di intuito ho capito che Mark Lamia intende dire che questo nuovo sistema del matchmaking sarà secondo me rivoluzionario appunto perché non so in una sala d'attesa ci saranno soltanto dei giocatori al prestigio dal dodicesimo al quindicesimo invece in altre sare d'attesa ci saranno persone dal prestigio 0 al prestigio 2 per cui i giocatori forti con quelli forti quelli scarsi con quelli scarsi quelli mediocri con quelli mediocri questo sistema di matchmaking può avere dei riscontri positivi e negativi a mio parere positivi perché effettivamente per i giocatori non buoni comunque chi prende il primo COD come ho fatto io fino a due anni fa mi ricordo ancora l'impatto con COD comunque era anche uno dei miei primi FPS arrivavi nella partita così spesatissimo facevi per qualcosa come due mesi, tre mesi o comunque il tempo necessario a prendere confidenza con il gioco in continuazione partite orribili, sempre in negativo però pian piano poi si prendeva la mano e si diventava ciò che si è ora o almeno come ho fatto io beh, questo può essere sia positivo che negativo perché se i giocatori scarsi non giocano con i giocatori estremamente forti non prenderanno di continuo batoste ma non facendolo non rimarranno sempre in quello stato di mediocrità o almeno io la penso anche così perché probabilmente se io non avessi guardato i giocatori più forti ararmi di continuo giorno per giorno probabilmente non avrei imparato varie tecniche non avrei imparato come fare le classi e così via quindi ci sono appunto dei riscontri positivi e negativi poi, altro spezzone dell'intervista dice we also hear from people who aren't adept or are skilled in multiplayer that they would like to be able to compete or have a way to play where it's maybe not as difficult to compete at times in poche parole qui sta parlando invece appunto dei giocatori meno bravi ho appena riassunto un pochino tutto poi ragazzi, altro spezzone qui invece si parla più che altro di qualcosa di più particolare osserviamo bene Mark Lamia con queste parole fa intendere che i tipici forever alone che non hanno amici su live, sul PSN o su Steam che sia diciamo riusciranno molto più facilmente a trovare persone con in un certo senso gli stessi interessi che vogliono giocare alle stesse modalità per cui aiutarla appunto a trovarsi più facilmente per esempio qualcuno, non so, non ho amici online o non ne ho proprio beh, voglio giocare comunque, non so, a demolizione non trovo nessuno con cui giocarci è come se mettessi una sorta di annuncio e tutti i giocatori che vogliono giocare a demolizione, su demolizione lo verranno a sapere così si creeranno dei piccoli gruppetti e anche questo non è affatto male quindi un'altra chicca dei sviluppatori per quanto riguarda appunto il matchmaking ok ragazzi, il video finisce qui spero di essere stato esaustivo al massimo se non lo sono stato, se non mi sono fatto capire beh, lasciate tranquillamente un commento con la vostra domanda sarò felice, lieto di rispondervi ci vediamo al prossimo vlog chiamiamolo così, non riuscirò mai a competere con quelli di Mr. Javo però pazienza su Black Ops 2 quando arriveranno altre informazioni ci si vede al prossimo video un saluto, ciao ciao